è un appuntamento importante perché primo è una verifica della popolarità del governo dopo un anno e mezzo e quindi credo e giorgia meloni ci punti molto secondo è una verifica dei rapporti all'interno della destra perché è vero che sono uniti da 30 anni ma ricordiamoci che lì c'è stato uno scontro molto duro almeno vistoso tra salvini e meloni per decidere chi fosse il candidato e giorgia meloni ha ottenuto che fosse un esponente di fratelli d'italia facendo costringere da mettersi da parte il candidato che era della lega questo è il primo elemento e non è vero che poi le cose sono tutte appianate perché leggevo qualche giorno fa un'agenzia un discorso di salvini che diceva questo sarà un referendum in sardegna tra cinque stelle lega come se in qualche modo ognuno pensasse di prendere soprattutto i suoi voti nonostante sia una coalizione quindi questo è il primo elemento per quanto riguarda l'altro versante cioè le opposizioni problemi simile è vero a ragione giorgia meloni il campo largo è una cosa evanescente stranamente lì sono riusciti a mettere insieme qualcosa anche se non è campo largo perché poi calenda appoggia solo con un'altra lista quindi il pasticcio aumenta i due gli elementi sono due un campo larghino diciamo un campo larghino ecco calciotto non calcetto neanche calcio e calciotto ecco e lì ci sono due elementi il primo che la candidata è dei cinque stelle non è del pd e quindi in qualche modo è un modo per verificare se queste concessioni cinque stelle alla fine pagheranno anche per il pd o no secondo aspetto naturalmente se c'è una sconfitta della sinistra e dei cinque stelle mi piace distinguere sinistra e cinque stelle e bisogna vedere quali riflessi si avranno non tanto nel movimento ma nel pd perché questa sarà una prova nella quale anche la line si gioca qualcosa e infatti tu hai evocato la line ieri era nostra ospite a